ciao io sono giuseppe e lui e gino cane da ricerca esplosivo ora siamo in servizio ma tra poco andremo in vacanza insieme come me anche gino soffre il caldo per questo non lo lascio mai troppo tempo al sole lo faccio bere molto e lo bagno spesso passeggiamo soprattutto all'alba e all'imbrunire quando l'aria è più fresca per ospitarlo ho scelto una struttura attrezzata e non mancano spiagge aperte a lui in macchina gino può viaggiare in apposito alloggio o nel vano posteriore con una barriera divisoria mi raccomando se hai pensato ad una vacanza senza il tuo amico a quattro zampe e non hai nessuno che può prendersene cura non disperare affidalo a una delle tante pensioni dedicate oppure rivolgiti a un dog sitter le soluzioni per non abbandonarlo non mancano a te il compito di decidere responsabilmente cosa fare non dimenticando che l'abbandono è reato io se non lo porto non parto dai andiamo